E' rosso, è rosso, è rosso, è rosso, è rosso, è rosso, è rosso, ma qua vado, vai lo scaverso. Dai, si insomma, dopo Battistella però arrivi, eh, oddio, ma hai dormito, hai dormito, fatti vedere, fatti vedere, Guarda bene l'occhio, guarda l'occhio, questo che è il classico occhio è da primi giorni giapponesi. Sì, ma ci devi anche dire che hai fatto ieri sera. Sì, infatti, guarda in Giappone non è che c'è tanto da fare, c'è da stare nella hall con tutto il moto mondiale, quelli che vedi d'altronde durante il tutto giorno, stai un po' su internet e poi si va a dormire. Insomma, il solito Yukorn, il solito Yukorn, il solito Yukorn, il solito Yukorn, Yukorn. Un'altra è quella che non c'è niente da fare, vai a dormire presto e dopo sei fregato. Cioè U-Porn e basta? No, U-Porn, no, U-Porn è quello più tardi. Non sono solo in camera, non si può dire. Ah, non si può dire. Non si può offensamente dire questo. Ah, non si può dire. Non abbiamo fatto da mito, da... No, abbiamo fatto qua. No, 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 no. Facciamo qui qualche cosa sport e così. Bello, bello, sì. Carichiamo tutti. Ma c'è un servizio tazzo, praticamente. Adesso ci siamo appena spolpati il manager. Il manager. Ti hanno domandato come mai stai sempre negli ospitali a mangiare? Ti abbiamo soprannominato il manager. No, no. Lui ci ha spiegato. Perché questo qui non lo so neanche io, mi piace. Cosa? Si chiama il manager. Come è fatta la risposta? No, la domanda non era quella. Quella è la tua risposta. La domanda era ma tutte le gare, che ci viene a fare un manager? Manager. Ma lui ha detto che c'erano due scelte, fare il manager o fare il giornalista. Però non sa scrivere. Noi gli abbiamo detto che non è importante saper scrivere. C'è un sacco di gente che... Vogliamo fare i nomi di colleghi che non sanno scrivere? No, 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 non si può. Non si può, non si può. Ma tu ci puoi fare il nome di qualche collega che non sa guidare? No, no. Anche lì si deve dire il peccato e non il peccatore. No, perché ce n'è qualcuno che in altri tempi a tavaglio non sa guidare. Io non so guidare. Io non so guidare, cazzo. Però è molto bravo a scrivere. Sì. E poi mangia poco, poco, poco. Quando è ubriaco soprattutto. Non sporca. Non sporca. Dai, spegni. Spegno, se no ci uccidono. Qua è acceso, è spento. Io non capisco più il cazzo. Io sono del tonico. È rosso, è rosso. È rosso. Grazie.